Siamo un collettivo di fumettisti che da due anni pubblica quotidianamente sul sito mamonaiuto.it Attualmente abbiamo 10 serie in corso e più di 700 contenuti tra strisce, illustrazioni, storie brevi e grafiche nove. MUND è la storia di un astronauta mafragato su una piccola luna che vive avventure psichedeliche. Il libro che andremo a stampare è l'amore immobile e raccoglie la seconda stagione della serie. Gli ideali sono storie autobiografiche che raccontano episodi imbarazzanti, tipo questo. Gli ideali sono storie autobiografiche dove racconto episodi imbarazzanti della mia vita. Il libro raccoglie tutte le puntate uscite sul web arricchite da illustrazioni fatte appositamente per la pubblicazione. Il pagina che vogliamo raggiungere ci permetterà di avviare un'articola dilatura e di dare un riconoscimento agli autori. In più, con questi libri potremmo uscire dal web e andare a incontrare i lettori nelle fiere e nelle smetterie. Pensiamo che il crowdfunding sia il modo migliore per ottenere i fondi necessari per la pubblicazione di questi libri in atti su web. Una donazione, anche piccola, ci permette di tenere il sito attivo e gratuito e a darci tempo per scrivere e disegnare fumetti sempre più belli. Grazie a tutti! Grazie a tutti!